Oggi vediamo come funziona un comparatore realizzato con un amplificatore operazionale come vedete è un'operazione semplice perché useremo il componente senza retroazione quindi senza dover fare particolari calcoli semplicemente applicando delle tensioni ai suoi ingressi iniziamo subito oggi vediamo come utilizzare un amplificatore operazionale come comparatore di tensione è l'utilizzo più semplice perché non stiamo usando nessun tipo di retroazione quindi lo usiamo ad anello aperto così com'è cioè come un amplificatore differenziale con un altissimo guadagno abbiamo qua lo schema diciamo ideale perché poi vedremo anche come usarlo realmente l'amplificatore operazionale con i suoi due ingressi a cui andiamo ad applicare solitamente la V- e la V+. Per non far confusione conviene utilizzare qua magari VCC e VEE che sono le tensioni di alimentazione solitamente sono fornite in modo duale quindi avremo un più 12 e meno 12 possiamo anche tracciare una caratteristica tensione corrente per l'amplificatore differenziale con il classico grafico dove abbiamo la tensione e la corrente questa tensione che andremo a dare è la differenza delle due quindi faremo V- e meno V+. andiamo a vedere questo valore quindi il valore della tensione differenziale applicata qua se noi tracciassimo il grafico a volte si trova anche su qualche libro di elettronica trovate che è formato da due linee che rappresentano la zona di saturazione e poi c'è una riga praticamente orizzontale quasi coincidente con l'asse della corrente appunto per indicare l'altissimo guadagno se voi andate a ingrandire questa zona qua proviamo a farlo qui dove vado ad accentuare la situazione vedrete che c'è in effetti una riga con una certa pendenza questa sale sale fino alla saturazione adesso accento la finestra che si viene a formare avete una piccola zona centrale in cui il comportamento è lineare quindi applicando una piccolissima differenza di tensione potete andare a spostarvi su questa linea il problema è che questa zona è di qualche micro watt quindi è piccolissimo basta pochissimo per far scattare l'uscita da una parte o dall'altra praticamente basta giusto anche il rumore che può raggiungere l'amplificatore o uno degli ingressi per usarlo come comparatore di solito si va a collegare uno degli ingressi a una tensione di riferimento e su quell'altro si misura il segnale variabile disegno qui un'altra volta il nostro amplificatore con meno più immaginate di mettere il positivo collegato a ground quindi 0 volt e usare l'altro ingresso l'invertente applicando di qui il segnale quello che vedremo è che basterà applicare un piccolissimo segnale positivo o negativo all'ingresso per vedere l'uscita schizzare da una parte o dall'altra quindi se alimentiamo a 12 meno 12 andrà direttamente a più 12 meno 12 in questo caso avendo fissato l'ingresso non invertente a 0 se io vado a mettere sull'ingresso invertente una piccola tensione positiva l'uscita scatterà a meno 12 quindi andrà in saturazione al valore più basso di tensione possibile ho messo meno 12 di solito è leggermente meno quindi magari troverete meno 11 o meno 10 a seconda del modello applicando invece sull'ingresso invertente una piccola tensione negativa vedremo che la tensione di uscita scatterà a più 12 posso usarlo anche al contrario quindi girando e mettendo l'ingresso invertente a massa se applicando il segnale sul positivo in questo caso sarà con corde quindi piccolo segnale negativo schizzerò a meno 12 piccolo segnale positivo e scatterò a più 12 se invece che lo 0 quindi metto la massa vado a mettere per esempio un diodo zener o un riferimento preciso posso far sì che questo scatti esattamente alla tensione desiderata quindi le possibilità sono adesso uso il primo schema con ingresso invertente mettere magari un riferimento realizzato con uno zener quindi metto una resistenza allo zener con la tensione desiderata e questo lo vado a portare al pin in modo da creare qui la tensione di confronto oppure semplicemente con un partitore con due resistenze che vado a scegliere in modo da avere la tensione desiderata sull'ingresso per realizzare il comparatore si utilizzerà un amplificatore operazionale reale quindi per esempio un LM741 che richiede un'alimentazione duale oppure un amplificatore operazionale che utilizza una singola alimentazione per esempio l'LM358 c'è una sottile differenza perché l'LM741 per funzionare correttamente deve avere proprio una massa centrale e un'alimentazione da una parte positiva da quell'altra negativa se non sono così le cose non funziona o funziona male l'LM358 invece può funzionare con un'alimentazione singola a patto poi di, come vedremo adesso, di far traslare tutte le altre tensioni in modo che possa funzionare correttamente l'LM358 è un chip con 8 piedini e all'interno ha due amplificatori operazionali questo è il suo pin out sul pin 4 abbiamo 0 volt sul pin 8 l'alimentazione per usarlo come comparatore andremo a collegare sul pin 4 il 0 volt sul pin 8 la tensione di alimentazione quindi VCC per esempio 12 volt andremo a creare il segnale di ingresso con un trimmer questo per fare una prova quindi mettiamo qui un trimmer da una decina di Kilo Ohm collegato tra VCC e 0 volt e il cursore centrale lo porto sull'ingresso invertente che è il 2 poi sul pin 3 devo realizzare il collegamento a massa che vedevamo prima non avendo la massa la realizzo virtualmente quindi cosa faccio? vado a creare un partitore con due resistenze di ugual valore queste resistenze le scelgo con un valore basso per esempio un centinaio di Ohm questo punto centrale se qui ho più 12 sarà A più 6 quindi questo più 6 lo vado a portare sull'ingresso non invertente in questo modo, visto che tutto è relativo se io puntassi in questo punto la boccola negativa di un voltmetro quindi il puntale nero è come se fossi a 0 volt e se con quella rossa vado a toccare il più 12 misurerò di qui 6 e se la rossa la metto qui misurerò meno 6 quindi posso imbrogliare il circuito facendogli credere di essere alimentato in modo duale praticamente ho alzato tutto di 6 volt e tengo questo come riferimento l'uscita posso proprio farla vedere visualmente l'uscita è sul pin 1 vado a mettere una resistenza da 3,90 e collego due led in antiparallero quindi uno ho messo così e l'altro girato questi sono due led dove vado a collegarli? no, li vado a collegare esattamente a questo punto centrale qui posso usare un simbolo diverso per indicare la massa uso questo lo metto anche qua questo sta a indicare che voglio collegare questi due punti insieme ho messo resistenza da 100 ohm nel partitore qui perché in questo modo si fanno meno influenzare questo partitore sarà meno sbilanciato dal calco che vado ad applicare provando a mettere questo circuito su una brebble vedete che effettivamente funziona e la tensione di uscita cambia quindi vedrete i led scattare da una parte o dall'altra a seconda di come ho imposto la tensione di ingresso bene avete visto applicando dei segnali semplici sugli ingressi del comparatore possiamo far sì che l'uscita si sposti da una parte all'altra del range delle tensioni di alimentazione quindi un impiego semplice però molto potente perché potete usarlo per fare per esempio dei confronti tra vari segnali o magari del segnale che arriva da un sensore per poi far scattare qualcos'altro bene se fossero dubbi o domande lasciatemi un commento vi risponderò appena possibile vi saluto, vi ringrazio ci vediamo domani ciao ciao